Riecoci insieme, riecoci insieme col Biancherosso TV Sport e con i nostri due ospiti Sabino Bartoli, voce dell'inno del Bari, attore e poi Gigi Frisini. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta, secondo voi Torrente va subito messo in discussione, va presa una decisione o avete ancora fiducia, secondo voi non è lui la causa dei mali del Bari? Dite la vostra perché chiaramente dopo la partita contro Nocerina è aumentato il partito di chi punta l'indice nei confronti dell'allenatore, perché in molti sono rimasti abbastanza stupiti dello strapotere proprio tattico, ma non solo, anche fisico, ma sta storia della preparazione atletica, Gigi, visto che l'anno scorso abbiamo vissuto un incubo di una preparazione atletica sbagliata, di giocatori che si facevano male, vedi scorrendo, è possibile che dobbiamo stare a parlare di una squadra che corre meno degli avversari? Io difendo sicuramente Stefano Boggio che è un preparatore abbastanza bravo, tant'è vero, l'anno scorso, quando è subentrato a chi stava prima, la squadra ha finito in un buon crescente, mi riferisco al binomio Mutti-Stefano Boggio, cioè l'alibi che posso concedere io, che 7 undicesimi di quelli che hanno giocato sabato scorso non hanno fatto la preparazione, allora è l'alibi, però sicuramente si sono preparati male, perché i vari Bogliacino, i vari De Falco, i vari altri rivali e roba del genere, non avevano e non hanno ancora adesso l'autonomia di fare una gara intera. Però in verità hanno giocato male anche quelli che hanno fatto la preparazione, sono un lavoro di difficoltà anche quelli. C'è un amico Ligna, aspetta, pronto? Ciao Enzo, Daniele. Ciao Daniele, ciao, ciao, ciao. Enzo, ma perché noi tifosi del Bari subiamo queste umilazioni, continuiamo ancora a subire queste umilazioni? Io non riesco ancora a capire, cioè i giocatori del Bari che fanno dei grossi campionati un anno, dopo svaniscono. Il Napoli, verso 3-4 anni, ti ha dei stessi giocatori e continua ad andare forte, perché che costa che noi abbiamo di sbagliato? Parlo di noi tifosi, della piazza? Guarda, devo dirti una cosa, io credo che psicologicamente un uomo se non ha delle motivazioni a crescere, ad un certo punto si spegne e voglia dire, prendono un sacco di soldi, io credo che un uomo, qualsiasi professionista, debba credere nel progetto, non può ripetere sempre la stessa storia. Io, devo dire la verità, io credo che il Bari ha perso una grande occasione per rafforzare quello che aveva fatto e per migliorarsi l'altra estate, quando dopo il decimo posto con Ventura, ricorderete, il Bari doveva dare un segnale fortissimo a se stesso, a Ventura, allo spogliatoio e alla piazza, ricorderete, il Bari aveva in mano Sebastian Giovinco, io in quel momento lì ho sognato, ho detto se prende Giovinco il Bari dà un segnale enorme, abbiamo sognato tutti, tutti con Giovinco che non a caso è finito in nazionale, il Bari con 3 milioni di Euro non ha preso Giovinco, nel momento in cui tu prendi Giovinco, a mio avviso, dimostri abbarrito dal Miron che non sono loro i capi dello spogliatoio, ma la squadra sta crescendo e fa sempre di più, dimostri alla piazza che si vuole crescere, invece lì ancora una volta freno a mano, freno a mano, tirato, difficoltà economiche me ne rendo conto, però purtroppo per crescere bisogna anche un po' investire, poi forse l'investimento ti torna con gli interessi. E' chiaro che io quando vedo quello che accade a Napoli, dove c'è un presidente che un po' alla volta migliora sempre la squadra, dico, è mazza, non c'è un De Laurenti Sabari possibile. Dovremmo partire dalla Serie C e rifondare tutto, è quello che ha fatto il Napoli comunque. Io credo che la famiglia Matarrese sia logora, stanca, sia un rapporto chiuso, è presente quando si parla di una storia che è finita, è finita la storia, è inutile nasconderci, si barcamena un po' ancora peggio, perché mentre prima si aveva la solidità economica e finanziaria, oggi si parla di affanni, non dimentichiamo che il Bari deve tirare fuori ancora 9 milioni di euro il 30 settembre per pagare gli stipendi arretrati, insomma è una situazione che francamente non porta da nessuna parte. De Laurenti si è calato praticamente nella vesta del presidente che vuole conoscere, tant'è vero, tutte le volte che va in trasferta va a cercare di copiare il modello Barcellona una roba del genere, ha rubato due grossi, dico un termine improprio, ha rubato i due grossi talent discount del Brescia e ce li ha sistematicamente in Argentini, in Brasile, in Giorgio Mori, ma è chiaro, anche perché poi alla fine lui è confortato dalla tifoseria che si è reso conto che questo personaggio ha speso dei soldi e intende spendere e lo aiutano sistematicamente. Non dimenticare che hai avuto 50 mila persone nella prima amichevole precampionata a Napoli e noi corriamo il rischio se il Bari continui quest'andato fra due partite e quando viene Livorno ci saranno soltanto dei trilli alla Livornese al campo, non sta nessuno. Io ho sentito parlare più di una volta in questa trasmissione, cercare una punta a doppia cifra come si parlava, no? Però ditemi dove stanno queste punte a doppia cifra, quali sono? Ma io avevo visto… Perché se scusami, in serie A non ci sono neanche… Però posso dirti che ho visto Plasmati e ho detto perché questo ad esempio non fa il caso del Bari, un giocatore non Plasmati, per carità forse è una doppia cifra, però non c'entra avanti, vero, perché comunque quando è entrato lui comunque la fisicità, la tecnica… All'inizio delle trasmissioni… Non parliamo di Maradona, non parliamo di Van Basten, parliamo di Plasmati. C'è una partita… Nel Grosseto fa la differenza Sforzini, te lo ricordi? De Paolo ha fatto due gol, abbiamo visto dopo la doppietta di De Paolo, abbiamo detto però alla fine, lo sappiamo tutti, che a noi manca proprio la punta. Però domani, sabato, il povero De Paolo è stato messo centrale, in balia senza che nessuno gli desse il giusto appoggio. Tanto è vero, De Paolo nell'azione del gol, del gol non gol fatto da Rivas, è stato praticamente quello che ha dato il passaggio a Rivas, ed era in posizione esterna, è un giocatore, è un giocatore. E' esterna, poi il secondo termine… Ma il Luminare come te mi può dire una punta a doppia cifra? Ma le punte, se non tiri fuori i soldi, non viene nessuno. Ma in Serie A già non esistono, voglio dire… Ma io ho visto il gol che ha fatto Caccia, il gol che ha fatto Caccia del Paolo. Ma si parlava di Caccia anche? Sì, ma Caccia, se non vai e metti soldi… Però devo dire che io non mi sto fermo sul particolare, cioè nel senso che questi sono problemi che in effetti, voglio dire, alla fine incidono anche sul rendimento di una squadra. Io credo che in assoluto… Poi ne possiamo parlare ogni giorno, possiamo parlare di tecnica e di tattica. Io credo che proprio in assoluto in questo momento Bari, considerata anche, come dire, un po' la resa della famiglia che gestisce il calcio a Bari, che dice noi più di questo non possiamo fare autogestitevi, perché questo è un segno anche di onestà. È anche un segno di grande onestà. Lo hanno detto. Io credo che in questo momento si ha bisogno di un rilancio assoluto, di un progetto nuovo, di qualcuno che se non viene è questa la situazione. Noi siamo destinati ad andare non so dove, perché questa è la situazione. Io credo che quello che poteva accadere non è accaduto rispetto al sogno del tifoso. Ora non solo dobbiamo pensare che il sogno non si realizzi, dobbiamo pensare anche che un incubo si può concretizzare. Io credo in assoluto che il calcio a Bari abbia bisogno di un rilancio e di qualcuno che lo rilanci. Fermo restando che il ciclo è durato 30 e passa anni, credo che davvero tanto di cappello ha la tenacia di aver tenuto in piedi questa situazione, però così il calcio a Bari non si può fare. Ma torniamo sempre sullo stesso discorso. Chi? Appunto, chi? Io abbiamo fatto... Tanto non piace lo stesso a nessuno questo calcio. Io sinceramente o comunque a prescindere Enzo non vorrei chiudere la trasmissione con un messaggio così catastrofico, invece tutt'altro vorrei chiudere la trasmissione con un po' di entusiasmo. Ma c'è ancora tempo, ci siamo ancora... No, voglio dire, insomma, sono cinque partite, abbiamo cinque punti, non è che stiamo proprio messi così male. Certo che dopo aver visto il secondo tempo con la Nocerina, oddio, un po' tutti ci siamo un po'... Ma io Sabino vado oltre, io non guardo la partita con la Nocerina, io guardo il fatto che già con la Nocerina c'erano 1900 paganti, dei quali 1200 di Nocera. Bari è una città di 350 mila abitanti, c'erano 700 paganti con la provincia e questo è il punto. Qui bisogna fare qualcosa, bisogna portare gente allo stadio. Io non mi riluso all'inizio, non mi sto illudendo ancora oggi, per me il campionato di quest'anno il Bari, cioè quando uno è sull'orlo del crack economico, se riesce a fare un campionato di vertice è un miracolo. Io quest'anno, infatti ho rimproverato, tra virgolette, Angelozzi torrente di aver detto a un certo punto puntiamo i play-off. Per me sarebbe stato meglio andare avanti così come si era iniziato, fare i spenti, vediamo quello che si può fare e via discorrendo. Sì, ma se avessi di puntare sui giovani, Enzo, era questo, io ero convinto. È cambiato tutto, infatti. È cambiato tutto, ero convinto che si puntasse sui giovani. Sabino, c'è un amico in linea, pronto?